Ciao ragazzi e benvenuti nel mio canale. In questo canale troverete un sacco di video di vario genere sulla ginnastica, sulla pittura, sulla danza, sui cartoni animati, sulla mia vita, praticamente un po' su tutto. Questo canale non ha un qualcosa che preferisce, cioè noi parliamo di tutto. Dico noi perché ogni tanto ci sta anche il mio fidanzato che fa i video con me. Quindi vi invito ad iscrivervi. A presto ragazzi!